Azioni! Lo sentite voi? Lo sentite? Questo è il percorso di cammino. Certo. Tutti mi ricordiamo, io però suonano i miei costi. La seconda persona con trans, mi ha troppo susana. Perché ha avuto? Non hai messo da lezione? Ha avuto corretto? Si, avuto corretto. Non so, ma sento un po' in avuto. No, non so. No, non so, ma sento un po' in avuto. Non so, ma sento un po' in avuto. Aspetta che mi andiamo un po' con Angela, ok, e azione! Aspetta che mi andiamo un po' con la stessa, ok, e facciamo un po' con i nostri spettatori, ok, e facciamo un po' con la stessa. E' tutto un movimento, è tutto un movimento, quindi faccio un caricamento, pam, boom, esatto. Azioni! Pam! Chi sei? Chi ti manda? Vado via, vado via! Vado via! Grazie a tutti